Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video sul canale Si torna a buildare e oggi facciamo una scuola elementare Prima di lasciare il video vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate Detto questo vi lascio allo speed build e buona visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti